Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Santa Teresa d'Avila che è stata un'autentica maestra di vita spirituale, tanto da meritarsi il titolo di dottore della Chiesa. Il suo insegnamento riguarda soprattutto la preghiera. In questa riflessione non ci soffermeremo sugli episodi della sua vita, ma sul suo insegnamento spirituale. Santa Teresa così definiva la preghiera L'orazione, a mio parere, non è altro che un intimo rapporto di amicizia nel quale ci si trattiene spesso da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. In base al suo insegnamento, per l'esperienza che lei ne aveva fatto, si possono individuare nove gradi di preghiera, nove gradini che portano l'anima dagli inizi della vita spirituale fino al vertice dell'esperienza mistica. Cerchiamo ora di vedere questi nove gradini. La base di tutto è la preghiera vocale. Con la preghiera vocale siamo noi che parliamo a Dio, ad esempio con le preghiere del mattino e della sera, con le lodi e i vespri, con ogni formula che noi ripetiamo con le nostre labbra, oppure mentalmente. Per pregare bene vocalmente c'è bisogno di una certa attenzione. Attenzione alle parole che si ripetono, al senso di queste parole e soprattutto attenzione a chi ci rivolgiamo in quel momento, ovvero attenzione a Dio, a Gesù Cristo, alla Madonna. E questa è l'attenzione spirituale che è la più importante. Il secondo gradino della preghiera è dato dalla meditazione. Santa Teresa ci teneva tantissimo alla meditazione. Alla scuola del Vangelo Santa Teresa raccomandava la solitudine per raccogliersi in se stessi e disporsi all'incontro con il Signore. Sua Maestà ci insegna a pregare in solitudine, diceva Santa Teresa. Santa Teresa consiglia di iniziare con un breve esame di coscienza, non per cadere nello scoraggiamento, constatando la nostra povertà, ma per cantare le misericordie di Dio nella nostra vita. Uno schema per l'orazione mentale potrebbe essere il seguente. Primo mettersi alla presenza di Dio, poi leggere. Deve essere una lettura attenta, lenta, devota, che ci fornisca l'argomento del nostro colloquio interiore. Poi la rappresentazione. È utile immaginare l'episodio che si vuole meditare, ad esempio Gesù nel Gezzemani. Questa rappresentazione aiuta a domare la fantasia chiamata da Santa Teresa come la pazza di casa che vaga continuamente. Poi vi è la meditazione propriamente detta, che è il lavoro dell'intelletto che si sforza di approfondire la verità di fede o il mistero della vita di Cristo che si sta considerando, magari ponendosi delle domande, ad esempio «Cosa mi vuole dire Gesù con quello che ho letto?» Segue il colloquio affettivo. È la parte centrale dell'orazione che consiste, per Santa Teresa, non nel molto pensare, ma nel molto amare. Si esprime l'amore o almeno il desiderio di amare il Signore. Santa Teresa assicurava che se uno avesse già un piede all'inferno, ma iniziasse seriamente a meditare, troverebbe senz'altro la via della salvezza. Ciò che manca nella vita cristiana è soprattutto la meditazione. Il terzo gradino è la preghiera affettiva. Mentre meditiamo prevale il lavoro della nostra mente, nella preghiera affettiva prevale invece lo slancio del nostro cuore. Si sale alla preghiera affettiva quando, alla luce delle riflessioni fatte durante la meditazione, ci si sente portati spontaneamente a slanciare il nostro cuore e a ripetere delle brevi e infuocate giaculatorie. Dobbiamo assecondare questi momenti sospendendo la nostra riflessione, pronti a riprenderla quando sarà il momento. Santa Teresa parlava di questa preghiera e come abbiamo visto prima, insegnava che questa preghiera affettiva è il centro della nostra orazione, ciò a cui deve portare la nostra meditazione. A volte poi sentiremo il desiderio di fare solo silenzio. Dopo aver lungo riflettuto, dopo aver ripetuto infuocate giaculatorie, spesso viene il desiderio di guardare e amare nel più profondo silenzio interiore. E' questa la preghiera di semplicità, il quarto gradino della preghiera, chiamata da Santa Teresa raccoglimento acquisito, ovvero il silenzio interiore raggiunto in seguito al lavoro della nostra mente con la meditazione e del nostro cuore con la preghiera affettiva. Finché dura questo momento, rimaniamo lì in silenzio a guardare e ad amare. Il quarto grado di preghiera è il confine tra la preghiera detta ascetica, ovvero la preghiera dove è molto importante il nostro contributo, e la preghiera mistica, dove prevale sempre di più l'iniziativa di Dio. E a questo punto subentrano delle penose purificazioni passive che rendono difficile la nostra preghiera. Per questo il raccoglimento acquisito potrebbe essere anche molto doloroso. Si guarda e si ama, non sempre nella gioia, ma spesso nella sofferenza dell'anima. Arrivati al quinto gradino di preghiera, ci addentriamo nella preghiera contemplativa. Il quinto gradino di preghiera è detto orazione di raccoglimento infuso. È detto infuso per distinguerlo dal precedente. Il raccoglimento acquisito era frutto del nostro impegno, sostenuto dalla grazia di Dio. Il raccoglimento infuso è dono gratuito di Dio. La nostra mente è inabissata in un silenzio interiore ineffabile. Iniziano le prime luci della contemplazione vera e propria. E in un solo istante di tale luce che illumina l'anima, si conosce di Dio e dei Suoi misteri più di quanto si potrebbe conoscere in anni interi di studi e riflessioni personali. Nel quinto gradino, lo Spirito Santo assorbe la nostra mente. Nel sesto gradino, invece, detto orazione di quiete, lo Spirito Santo assorbe la nostra volontà, la quale si trova in una quiete indescrivibile. La differenza fondamentale tra l'orazione di quiete e quella di raccoglimento infuso è costituita dal fatto che il raccoglimento infuso è come un invito di Dio a concentrarsi nell'interno dell'anima dove Egli vuole comunicarsi. L'orazione di quiete va più lontano, comincia a dare all'anima il possesso, il godimento fruitivo di Dio. Il settimo gradino è quello dell'unione semplice. Lo Spirito Santo assorbe l'intelletto e la volontà insieme. Rimangono liberi solo i sensi corporali esterni. Arrivati a questo punto ci sono degli effetti meravigliosi, assenza di distrazioni, certezza assoluta che l'anima è unita a Dio e assenza di stanchezza. Quando l'azione dello Spirito Santo aumenta ancora di più si sale all'ottavo gradino che è quello dell'orazione statica. L'azione dello Spirito Santo è così intensa che anche i cinque sensi corporali ne rimangono assorbiti. Ecco allora che il mistico va in estasi. Andare in estasi vuol dire proprio questo. Significa che i sensi vengono assorbiti da questa potente azione dello Spirito Santo. Durante l'estasi il mistico non sente e non vede nulla. Anche se qualcuno lo scottasse con il fuoco, finché dura l'estasi non sentirebbe nulla. Finita l'estasi sentirà il dolore per la scottatura subita in precedenza. Infine, se lo Spirito Santo intensifica ancora di più la sua azione sull'anima, si sale al nono grado di orazione che è detto unione trasformante o matrimonio spirituale. È l'ultimo grado di perfezione che si può raggiungere in questa vita e costituisce il preludio della vita del Paradiso. Giunti a questo livello assistiamo alla morte totale del proprio egoismo. La gloria di Dio è ormai l'unica preoccupazione per l'anima felice giunta a simili altezze. Quest'anima è perfettamente uniformata alla volontà di Dio. vuole ciò che Dio vuole e gioisce anche nella persecuzione. Non ha più una grande sete di patire come in precedenza aveva. Ormai vuole solo ciò che Dio dispone e ha uno zelo ardente per la salvezza delle anime. Ormai non va più in estasi e nemmeno ha rapimenti. Vive in una pace e in una quiete imperturbabile. Aspetta solo che si rompa il sottile velo che la separa dalla visione beata del Paradiso. Cari fratelli e sorelle, le vette che abbiamo cercato di considerare sono certamente molto alte e la base per compiere questa ascensione è la meditazione quotidiana. Non trascuriamo mai questo dovere. Quando preghiamo siamo noi a parlare a Dio. Quando meditiamo è Dio che parla al nostro cuore. Santa Teresa di Gesù prometteva il cielo a chi ogni giorno dedica un poco di tempo alla meditazione. Siano lodati Gesù e Maria. e Maria.